Ciao Milan, complimenti per la qualificazione a questa semifinale di Coppa Italia. Voglio parlare del tuo salvataggio sulla linea. È l'azione più bella per ora della tua stagione? No, perché era fuorigioco alla fine. Sono contento che sono riuscito a fare questo salvataggio, anche che alla fine era fuorigioco. Però per me è più importante che la squadra è tornata a vincere e è quello che era il nostro obiettivo. Hai cambiato più ruoli questa sera in difesa e poi te la sei vista con un avversario tosto come Abram. Com'è andata questa partita? Sì, ho cambiato ruoli ma non è quello il discorso. Perché comunque in difesa posso giocare destra, sinistra, anche in mezzo. Dove mister ha bisogno, dove la squadra ha bisogno posso giocare. Cerco sempre di dare massimo, cerco sempre di dare una mano alla squadra. Sicuramente i due attaccanti, la Roma, Zagnolo e Abram, sono attaccanti forti, quello che sapevamo. Hanno creato qualcosa anche loro, però sono contento che siamo riusciti a non farli segnare. Si parla tantissimo del calendario dell'Inter, ricchissimo di partite, anche molto belle da giocare. Come ci arriva la squadra secondo te? Secondo me la squadra arriva preparata come sempre. Anche se magari abbiamo sbagliato una partita come derby, però subito oggi si è visto l'Inter. Quello vero è quello che è. E comunque adesso ci aspettano le partite toste, però io penso che arriviamo sempre pronti e sempre daremo un massimo per questa maglia. Ti faccio fare un'ultima domanda da studio da Marco Andreolli. Sì, ciao Milan, complimenti per la vittoria, per la qualificazione. Volevo chiederti quanta voglia avevate di ripartire subito dopo la sconfitta nel derby. Abbiamo visto entrare i primi minuti con una cattiveria, una voglia di mangiare l'erba, di mangiare il campo e siete riusciti subito a trovare il gol. E poi volevo chiederti come ti trovi, come ti stai trovando a giocare anche in quella posizione così da centrale. Ti abbiamo visto giocare diverse volte quest'anno. Volevo sapere come ti trovi in quella posizione e cosa cambia per te. Soprattutto grazie per le parole. Sì, volevamo entrare subito in partita cattivi. Volevamo chiuderla subito. Infatti abbiamo fatto subito gol quello che volevamo. Quindi sono contento che abbiamo vinto. Io, come ho detto prima, mi trovo bene anche destra, anche sinistra, anche centrale, dove la squadra l'ha bisogno. Gioco e cerco sempre di dare massimo. Ciao Danilo. Ciao, buonasera. Complimenti per la tua gara. Questa era una sfida da dentro fuori ed era importante dare una risposta convincente. Secondo te com'è risposta la squadra? Ha risposto con il passaggio del turno e poi con una prestazione convincente. È normale che dopo una partita persa, una partita come quella del derby, noi questa sera avevamo voglia di riscatto e ci siamo riusciti alla grande. Avete difeso veramente da squadra, anche perché contro gli attaccanti della Roma, che stavano anche parecchio bene, poteva non essere facile. Sì, loro hanno, a mio avviso dal centrocampo in avanti, delle ottime individualità fatte di corsa tecnica e quindi abbiamo, come hai detto tu, difeso da squadra e attaccato da squadra. Abbiamo fatto due gol proprio perché abbiamo giocato da grande squadra. A proposito di qualità e di grande squadra, sabato ci sarà una partita importante contro il Napoli che ha dei giocatori importantissimi e che stanno molto bene. Sarà una partita fondamentale per gli obiettivi dell'Inter? Sarà una partita fondamentale come tutte le partite. Ovviamente questa qua conterà un pochettino di più perché è una diretta concorrente per i primi posti della classifica. Loro hanno tutta la settimana per preparare la partita, noi da domani ci penseremo. Però sarà una bella partita sicuramente. Ti faccio fare un'ultima domanda anche dal tuo amico Marco Andreoli. Va bene, un aspetto alto. Ciao, ciao Dani, complimenti per la partita, per la qualificazione. Volevo chiederti se questa sera rispetto alla partita di sabato è arrivato solamente... La differenza è stato solo il fatto di riuscire a chiudere la partita nel secondo tempo, cosa che magari era mancata sabato. Perché poi di fatto sia stasera che sabato l'Inter ha quasi sempre e comunque condotto la gara. No, secondo me oltre al fatto di non aver chiuso la partita sabato è mancata la gestione, quella che invece questa sera ci ha permesso poi di chiudere la partita e di non aver di fatto creato molte occasioni alla Roma. Quindi la gestione della partita questa sera è stata una gestione dove abbiamo sempre dominato, dettato a noi i tempi degli attacchi dei nostri attaccanti. e invece contro il Milan non abbiamo fatto questa gestione che poi ovviamente quando tu in un derby rischi una o due volte alla terza prendi gol. Fiume Fiume ் Grazie a tutti